Sto per raccogliere sul panico qui con me un grande artista con una grandissima creatività e una grandissima grandissima voce, Mahmood. Ma che look meraviglioso. Vedi che siamo un po' tutti dorati. Siamo tutti dorati. I bottoni dorati. Sì. Questa è un overall. No, è un due pezzi, non è una tutta piena. No, no, no. Un po' Messico. È un po'... Beh, non l'ho detto io. Natalia in Messico. Un po' Messico. Natalia in Messico. Ma magari. Però adesso facciamo una canzone bellissima, da altri tempi un po', però... Io amo tanto questa canzone. Anche io. Infatti, diciamo che mai avrei immaginato che cosa sia stata l'opportunità di farla insieme a te, perché poi la tua versione l'avevo già sentita e mi piace veramente tanto. Quindi sì, sono molto felice di essere qua adesso. Io sono felice di essere qua con me. E allora, allora, niente. Andiamo, andiamo. Buongiorno. 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 Grazie a tutti